I tre fine settimana lunghi che si sono conclusi ieri con il primo maggio hanno decisamente rafforzato la Liguria come meta turistica anche a livello internazionale, come dimostra la crescita delle presenze straniere tra Pasqua 2016 e 2017 del 47,85%. Lo ha dichiarato l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, commentando con soddisfazione i dati turistici dell'ultimo periodo. Secondo il report elaborato dall'osservatorio turistico regionale, nelle fine settimana di Pasqua sono state registrate circa 279.000 presenze in Liguria, 32.000 in più rispetto alla Pasqua 2016, con un incremento quindi del 13%. Le presenze straniere sono state poco meno di 92.000, circa 30.000 in più rispetto alla Pasqua dello scorso anno, con un incremento appunto del 47,85%. A fare la parte da Leone i francesi più 116%, poi gli svizzeri più 61,5% e di tedeschi più 20%. A livello provinciale è la Spezia ad aver registrato una crescita più marcata, circa il 27% in più rispetto alla Pasqua 2016, per un totale di 44.600 presenze. seguono Genova con una crescita del 15,7% con 71.700 presenze, poi Imperia con più 10% e 57.000 presenze. Chiude la classifica percentuale Savona con un più 8%, ma con il picco di presenze pari a 104.000, il maggiore a livello regionale. Sì, sono stati tre ponti importantissimi. Abbiamo già i dati quasi definitivi per quanto riguarda il ponte di Pasqua, che poi è stato il primo che è inaugurato questa sera. I dati sono molto incoraggianti. Il turismo in Liguria è salito nello stesso periodo del ponte di Pasqua rispetto al 2016 è salito di oltre il 10%, con gli stranieri che sono aumentati del 47%. Il boom principale l'abbiamo avuto in provincia di Spezia con un più 26%, ma anche Genova città ha fatto uno straordinario numero di turisti che tra l'altro sono visti in città e nelle mosse organizzate sul territorio. Anche le riviere sono andate molto bene, il dato ce lo danno anche i treni straordinari che abbiamo organizzato per il ritorno, il 20 miglia Genova-Milano e il Spezia Genova-Milano, che hanno raccolto sul loro cammino nelle varie stazioni più di 500 persone che hanno aiutato a ritrasferire verso Genova e verso Milano, oltre naturalmente a tutti i treni che sono passati, quelli ordinari, molto pieni di passeggeri. Quindi diciamo così, molto bene, il clima naturalmente ha garantito un buon divertimento tranne il primo di maggio che è stata l'unica giornata un po' negativa, diciamo così, ma ci fa sperare con buone prospettive per un'estate che già si presume e i primi dati li abbiamo già pieni di prenotazioni.